Questa settimana è arrivata anche la ratifica del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ufficializza la nuova presidenza del Parco San Bartolo, quella di Silvano Leva, che abbiamo oggi ospite nei nostri studi. Silvano Leva che succede a Stefano Mariani per una carica, credo, da onori e oneri. Probabilmente più oneri che onori per adesso, perlomeno dall'inizio di questa storia. Stiamo cominciando a capire, sono chiaramente nel periodo dell'ascolto, perché dare già un programma di quello che può essere la storia futura e la discontinuità rispetto a quella precedente, come è stata ufficializzata, vanno verificate, vanno ascoltate. Bisogna avere prima di tutto la capacità di ascoltare, di ascoltare i residenti, le attività produttive. Ma anche i frequentatori del Parco, per dare un equilibrio alle varie esigenze, alle varie problematiche. Siamo nel periodo di bilanci, quindi credo che dovrò incontrarmi anche con il Direttore e con i dipendenti, per capire qual sarà il bilancio del 2022, quali sono i risultati, ma soprattutto capire quali sono le esigenze anche finanziarie per sviluppare quei progetti e quelle cose che tutti quanti si stanno aspettando. Lei ha sempre vissuto, gomito a gomito, con la realtà del Parco, sia con la sua azienda Deleiva, che è davvero alle porte del San Bartolo, sia come residente. Sotto questo profilo quale vede l'urgenza più importante sulla quale intervenire? Allora, diciamo che mia nonna, che è nata nel 1899, abitava a Roncaglia, quindi siamo in Preparco, e da quella volta nonni, genitori, noi, figli e nipoti abitiamo nel Preparco, con avvicinanza importante al Parco, quindi ho vissuto anche il Parco in questi secoli. Per la realtà, per tutti i messaggi che mi sono arrivati, Whatsapp, telefonate, richieste di incontri, sono tante, quindi dovremmo vedere anche i contributi che è possibile recepire per poter sviluppare i progetti, però come dico, questa è una fase dell'ascolto. Di cose ce ne sono tante, dalle più piccole, la via del mare, la strada dei vini, problematiche anche importanti per alcuni, mi hanno chiamato per i problemi degli insetti sulle palme, probabilmente ormai la campagna è anche abbastanza avanti, quindi non si riuscirà a fare. Siamo all'inizio della stagione estiva e quindi anche il problema del mare, perché il parco parte da Baia Flaminia e arriva a Gabice, Mare e Monte, e quindi vedere anche per il mare cosa è possibile fare per l'accessibilità. Di cose ce ne sono un sacco, vediamo di fare una scaletta delle strategie, delle priorità e dalla prossima settimana cominciare a lavorare. Tra le novità più recenti c'è anche la nascita del brand Riviera San Bartolo, è un valore aggiunto per ragionare di sistema? Sì, sicuramente sì, ho sentito anche con commercio, mi ho chiamato con fecercenti, voglio dire di cose su gastronomia, sul vino, su tutti i temi che ognuno ha le sue priorità, i ristoratori hanno le loro priorità, la regione ha le sue priorità, la sede, si parlava di egemonia del parco del San Bartolo per quanto riguarda Fiorensuola, ma il titolo del giornale parlava che basta l'egemonia, ma non è un problema di penalizzare o spostare il tiro. Il parco è il parco, c'è Fiorensuola che sicuramente è il fiore all'occhiera del parco, ma c'è anche Castel di Mezzo, c'è anche Santa Marina, quindi vediamo, ho detto che vorrei fare il precedente di tutti, spero di riuscire a fare il precedente di tutti, ascoltare tutte le esigenze, dando le priorità, però cercando di farmi valutare sui risultati e non sui discorsi.